ma veniamo qui anche se forse avrete il bello degli obiettivi mezzo inverno che ti danno regali cioè non come non come esperienze basta un deltaplan e una scia però magari un cecchino mi dà all'inizio aiuto non gli sparo perché sennò poi mi distruggono mi guarda ecco mi arrivo c'è la roba epica non c'è un ma come si chiama il blu uno sparato a blu l'arma o quando l'anno è blu che era sicuro che vuole rischiere ma da chi mi è sparato quando dietro dietro dentro dentro aiuto ma no bene che posso rubare le armi migliora cura mi cura mi no uccidolo prima finiscono di uccidere sì c'è qualcuno 4 un amico lo blocca no l'amico lo blocca guarda non c'è delle cure c'è delle cure adesso pure io un momento un amico dietro no tengo già un'arma a questo mi era caduta guarda il mio piccone ma te lo preferisci rosso azzurro verde rossi troppo bene e pensare che il gli altri due colori con gli altri due colori mi vuoi usare delle soltanto comprando il passo senza che fortuna che mi piace pure un tizio un uomo di roba loro ma fattura ma con lui mi prendo le bende si vengono solo le bende perché lo sparavano e lo prendo o fermo aspettami salve due secondi di pausa perché proteggimi e mi chiedo un secondo devo vedere una cosa se la roba dello sparapalle l'ho fatta già ok stai dando un po più veloci sto parlando un po pare che devo devo prendere un un giugno dovevano e sopra sembrava un po di più di amica ma una cosa o un npc spero e non c'è c'è un gelato la pure nel pc voglio parlare riguardano chiamo cornetto chiamo cornetto pistola ciao corretto e no che non mi ricordavo la blu a video la giocata arrivo così ma sono tutti tutti no ma c'è c'è questa cosa va bene io 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 so io so io robot dentro una macchina in che senso a dai una macchina dentro una macchina ma la seguita andu come due erano cosa troviamo un po lo dobbiamo scendere ma che si è portata giù l'ho cambiata molto meglio vabbè la macchina per adesso stiamo lasciando stare ucciso è morto e sposa qualcosa nel cecchino non lo lascia un momento cecchino vabbè la patina se ne è andata no non mi serve quello il punto non so se me lo prendo o no tu che mi consigli di prenderlo ma non lo so io mi prendo il medico ma che sta roba ma c'è uno con cecchino dentro dentro il cittadino cosa di rossa che spingare il gecchino sicuro si sta cadendo nella montagna non ho munizioni della mitragietta hai morto e non ho neanche toccato non ho munizione della mitragietta vabbè si potrebbe do io aspetto fermo c'è un camion oh sono messo da me sono messo da me ho l'azione ho l'azione ho l'azione ok oh siamo tra poco mi sono rubato una roba no mi serve un po' di punizione dai c'è un'azione della mitragietta please please la mitragietta la uso tantissimo proprio la uso ho buttato a terra se li sei presi sicuramente comunque secondo me dobbiamo spostarci non ho avuto guarda qua guarda che c'è poter vieni a buttare sono fucile blu vengo a buttare io tengo un fucile leggendario guarda che belle skin delle mie armi tengo quella oh di che colori mia ricostazione oh guarda un momento la pistola è bellissima la vista la vista la pistolina quando la prendevo avanti io vedevo qualcosa di rosso dicevo ho visto adesso questo mi spiegasse c'ho altre munizioni della mitragietta se le vuoi no no ce ne ho tante aspetta fammi prenderò vuoi un fungo vuoi un fungo io mi devo bere sta roba perché non tengo niente di sfido che ci dobbiamo scoprire oh peragnatele quante cazze due e questo non mi sa lì ah no 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 stacca tutto il giù della montagna che soddisfazione oh guarda dove sono atterrato ho fatto un mi aggrappa a te mi posso aggrappare a te oh mi posso aggrappare a te io ci vengo le volte però non me le segna vabbè andiamo giù andiamo in quella casa da in fondo un bacco regalo ci sono fra dei nemici ah beh che se ne porto ma almeno è dati di più vabbè cosi me li prendo perché cinotte 334 oh nemici i nemici eccoli non li spariamo 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 se stanno fermissimi ma proprio fermi allora colpettino in rodo tanto non si capirebbe guarda anche tagliato perché bello nel un piazza ho chiuso un momento qua dipende se ci spara o sta avendo disparato secondo me sì 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 ha sparato qualcuno non è quello il punto sento spostamenti macchina se non è qua meglio che c'è il fumo da dietro oh c'è qualcuno con fuori ma allora sento rumori ah non so quando sia sicuro stanno qua se sta pure avvicinando la safe dobbiamo andare vai vieni qua c'è il muretto l'ho rotto l'ho rotto c'è qualcuno la secondo me aggiriamo 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 tanto questo di cura di finchè lo prendo danno sto a posto perché questo cura finchè non non finisce mai capito lo sai lo sapevi c'è stato un po' di cura finchè non veni colpito infatti molto io non mi guardavo quel colpettino non colpo c'è ed shot deve essere lo spionato lo spionato lo spionato non c'è chi c'è uno sopra infatti è un altro che quello di sopra è sicuro a quello di sopra tu guardi quello di sopra e 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 quello di sopra no si stanno combattendo tra di loro meglio meglio e mo dove andiamo possiamo metterli veramente in difficoltà c'è una cosa chiudiamoci dietro ora adesso ok è sempre lì queste però la sei e vabbè di pochissimo io esco io passo vado eh posso? vado sull'albero vado sull'albero vado sull'albero e vedo dove possiamo andare così direi eh in là si sono fatti un fortino della madonna quindi non bugiarli andiamo sulla montagnella e ci sono io sono precisamente sopra l'albero guardami tu tu sei sull'albero mi raccomando non di stare occhio no mi sono messo dietro al fortino vedo l'altro un altro team dove dovevo mandare noi ehm allora per il momento io tolto 20 un colpo io tolto 20 per lo scu no perché se ci scoprono no no l'altro sull'albero c'è uno sull'albero che faccio spesso spesso per il momento mira quella casa gialla e quello la sua l'albero quello che possono liberare dove sto e dove sto io davanti a me tu occupati di quello io mi occupo così qua della casa teniamo le 19 19 19 19 19 19 19 19 e e non ci sono l'albero non ci sta non ci sta ma da dove mi sta no sempre dalla credo sì dalla propria dall'albero sceso porca vacca io sto cercando di salire no vabbè tanto ce la facciamo devo capire solo dove sta dove sei tu è un piccolo problemino a giro e viola che sta succedendo potenzioso che ho fatto non posso ora è andato ok l'altro è finito resta qua resta qua resta qua siamo noi con gli altri all'ospedale finire questi come non preoccuparti non costruire troppo no sto cercando di no aspetta devo andare molto dentro la safe esco perché devo salire se brava qualcosa sento farsi anche del posto sono io perché sull'albero pure io stanno formando sono scemi parliamo un è morto un è morto vai fuci all'altro fuci all'alto non devi prenderlo quello giuro sono prendi con un amico io vado ma perché abbiamo quella roba in testa con un gioco no c'è io c'evo la corona a vita si c'evo la corona no non c'evo la corona ma pure a me me la da ah io c'evo la corona ah no non c'evo la corona l'abbiamo ottenuta la corona adesso che faccio io ho messo facendo le unghie io ho messo facendo le unghie